Dal ritiro di Norcia con Beppe Sicurella, allora Beppe, ormai il secondo ritiro se non erro con la maglia del foggia, come ti senti e come sta andando il lavoro? Eh sì, dal secondo ritiro mi sento molto bene, stiamo riempiendo le gambe, stiamo allenando tutto come sapete con la palla e sta procedendo per il verso giusto. Com'è stato l'arrivo dei nuovi? Come sono stati accolti? Come ti ci trovi? I nuovi sono inseriti molto bene perché sappiamo che il gruppo è eccezionale e quindi i nuovi non hanno avuto difficoltà di inserirsi insieme a noi. Qualcuno con cui hai legato di più dei nuovi? Per adesso no, tutti, comunque sto andando a un buon rapporto, vediamo il proseguo della stagione. Ti sei posto un obiettivo personale per il prossimo campionato? Sinceramente voglio migliorare ciò che di buono ho fatto l'anno scorso, quindi vedremo, parrà il campo. Testa la Coppa Italia naturalmente, il primo impegno sarà quello con la Locchese nel 2 agosto, poi ci sarebbe una partita importante con il Bari. Qualcuno nello spogliatoio ve ne sta già parlando? No, sinceramente no, sentiamo che i tifosi comunque tengono molto a giocare contro il Bari per condarvi molto sentito, però prima di tutto testa la Lucchese e poi vedremo quello che succederà. Noi ce la metteremo tutte in campo, siamo molto fiduciosi e speriamo anche noi di giocare a Bari. Grazie, buon ritiro. Grazie. Grazie.